Musica Avete sentito un rumore? Tipo terremoto Avete chiamato subito i vigili? No, siamo scappati di casa e siamo andati a dormire da sua madre e poi siamo venuti stamattina perché con un bambino di 7 anni che piangeva e diceva che non voleva morire a 7 anni, insomma è stata una bella botta Paura nella zona di Saione in pieno centro città ad Arezzo in via Emilio Vezzoni alla palazzina di Treppiani che si trova all'Arcivico numero 13 è crollato parte del tetto un crollo dovuto alle infiltrazioni di acqua per via delle piogge incessanti cadute negli ultimi giorni si è dunque creata una voragine di circa 3 metri per 3 i vigili del fuoco di Arezzo sono subito intervenuti per mettere intanto in sicurezza la zona a sentire il rumore del crollo sono stati gli inquilini del terzo piano Terzo piano, guarda quello lassù Avete sentito il rumore? Tipo terremoto Ieri sera alle 8 e mezzo Non lo so, ho uno stato d'animo un po' particolare fra l'arrabbiato, il preoccupato, il pensieroso, un po' di tutto quindi vediamo quello che ci dicono la spesa soprattutto è quella che ci preoccupa anche più di tutto però vediamo